Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla tragedia che ha sconvolto la comunità gelese. L'odontoiatra Giuseppe Arabbi, sove del figlio Emanuere, sono morti a causa di un incidente aereo. Il tragico episodio si è verificato nei pressi dell'isola di Stromboli, a bordo dell'ultraleggero Storm 300, stavano regandosi a Foggia. Ancora non chiare le cause del gravissimo fatto, i loro corpi sono stati recuperati in mare dagli uomini della Marina e della Guardia Costiera. Attualmente si trovano a Lipari, come dicevamo, una città sgomenta. Una tragedia, non ci sono altri modi per descrivere quanto accaduto nelle ultime ore. Un lutto che ha colpito l'intera comunità gelese. L'odontoiatra Giuseppe Arabbi, sovi 61 anni, ed il figlio Emanuele, di 26, sono morti a causa di un incidente aereo avvenuto a largo delle isole Olie. Nello specchio d'acqua, antistante l'isola di Stromboli, erano a bordo di uno Storm 300 ed erano diretti a Foggia. I loro corpi sono stati rinvenuti dai mezzi navali della Marina Militare e della Guardia Costiera. Nella ricerca era stato impegnato anche un traghetto partito da Lipari alla volta di Napoli. I corpi sono stati ricomposti nell'obitorio del cimitero di Lipari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Probabile un questo tecnico al velivolo, Giuseppe Arabbi, sovolto conosciutissimo in città per la sua passione per il volo, era partito da Gela alla volta di Foggia al fine di accompagnare il figlio, studente universitario, in medicina. Ad un tratto, dopo alcune ore di volo, lo Storm 300 ha iniziato a perdere quota fino a schiantarsi nel tirreno. Giuseppe Arabbi, solascia la moglie e tre figli, due femmine ed un maschio. Sono stati avvisati ieri pomeriggio che già intorno alle 15 non c'erano più contatti e hanno avviato immediatamente la ricerca. All'arco di Stromboli c'erano perse tutti i contatti con il trasporter che aveva lui e alle 15 già avevano avviato la ricerca. Stamattina purtroppo ci hanno dato la drammatica notizia. Giuseppe Arabbi era innamorato dalla sua passione, per lui esisteva solo il volo ed in volo è morto assieme a un figlio. Avrebbe potuto scegliere di accompagnare proprio il figlio in auto, ma aveva scelto il suo Storm 300. Lui era, come sapete tutti, il proprietario di questo e faceva di tutto con quest'aereo, vuol dire che aveva ritenuto, secondo lui, giusto che poteva affrontare quest'altro viaggio. Cosa ricorderà di suo zio e di suo cugino? Quello che ricordano tutti, un personaggio bizzardo. Tra qualche giorno Giuseppe Arabbi avrebbe dovuto tenere un convegno sull'ultimo suo viaggio in 13 paesi d'Europa ed anche in Africa. Stabato scorso, attraverso un messaggio su WhatsApp, orgogliosamente aveva invitato gli amici e i giornalisti ad un convegno da svolgersi il prossimo 5 dicembre al Cinema Hollywood. Giuseppe Arabbi aveva scelto un nome che era tutto un programma, un volo dove non si vola, l'Egitto. Aveva preparato video e foto della sua ultima impresa, quella conclusesi lo scorso 31 ottobre. A bordo del suo Storm 300, per oltre un mese e mezzo, aveva viaggiato nel lungo e nel largo l'Europa e parte dell'Africa nel tentativo di raggiungere un nuovo record, 13.000 km da percorrere in 80 ore di volo in 13 paesi. E quando atterrò a Gera, accolto dall'assessore Francesco Salernitro, al abiso disse la sua sull'Egitto. In Egitto è successa una cosa assurda che non esiste in nessuna parte del mondo perché sono atterrato, l'indomani sono decollato per Cipro, ho forato un pneumatico e ho sistemato perfettamente la ruota. L'indomani mi hanno bloccato perché secondo per la loro mente, la loro ragionamento, deve venire un tecnico dell'avversione italiana, perché l'aereo è italiano, per controllare il ruotino. L'ho detto scusi, un gommista non può essere un ingegnere, no? Dice deve essere così o di qua non decolla. Giuseppe Alabiso dedicò l'ultima impresa alle associazioni Admo e Adas portando nei 13 paesi tappa del suo viaggio il messaggio della donazione del midollo osseo e del sangue. Nel luglio del 2013 Alabiso volò da Gela a Caponordi in Norvegia percorrendo 9.300 km in 8 giorni e 54 ore di volo e nell'agosto scorso da Gela in Negrolandia, 12.000 km e 75 ore di volo. Una vita spericolata, quella di Alabiso. Anni fa rimase vittima di un incidente in aereo nei pressi di Sabaudia e rimase in stato comatoso per circa un mese. Nel 2010 un altro schianto nelle campagne di Sommatino. In quell'occasione riportò lievi traumi. L'amministrazione comunale di Gela si dice costernata per il tragico incidente in cui hanno perso la vita Giuseppe ed Emanuele Alabiso. Sono stato in contatto con la direzione marittima di Catania che ha coordinato le ricerche tra strombole e liberi, ha detto il sindaco Domenico Messinese. Ma ben presto la prensione ha ceduto il passo al dolore per un dramma familiare al quale siamo vicini in questo triste momento. Giuseppe Alabiso rimane un esempio di intrepido civismo solidale, ha concluso il primo cittadino. I suoi record hanno acceso i riflettori sulla città ed i suoi problemi con iniziative benefiche che hanno onorato il nome di Gela. La società Gela Calcio si unisce al dolore della famiglia Alabiso per la tragica scomparsa degli amati Giuseppe ed Emanuele. Il presidente, Angelo Tuccio, i dirigenti, lo staff tecnico e gli atleti esprimono condoglianze e vicinanza in questo momento di dolore. Ed ora occupiamoci del blitz eseguito la scorsa notte a Gela, 20 persone arrestate per associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. La polizia ha decapitato il vertice della consorteria Rinzivillo e Emanuele. Prezioso e determinante l'apporto è fornito dall'associazione antiracket Gaetano Giordano. Blitz nella notte a Gela con l'esecuzione di 20 ordinanze di custodia cautelare, 16 in carcere e 4 domiciliari emesse dal GIP di Caltanissette Marcello Testa Quadra su richiesta della direzione distrettuale antimafia ed eseguite dagli agenti del commissariato, da quelli della squadra mobile di Caltanissette a Livorno con l'ausilio di pattuglie dal reparto prevenzione crimine e di unità cinofile. I destinatari del provvedimento restrittivo sono legati al gruppo mafioso Rinzivillo e Emanuele. Le accuse sono di associazione di tipo mafioso, aggravata dall'essere armata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e alle estorsioni. Sotto questo aspetto prezioso e determinante l'apporto dell'associazione antiracket Gaetano Giordano e del suo presidente Renzo Caponetti. Quest'ultimo è riuscito ad infondere negli imprenditori il coraggio di denunciare. Importanti anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Massimo Carmelo Billizzi, Francesco Bella, Gianluca Gammino e Fortunato Ferracane. L'attività investigativa è scattata nell'agosto del 2014 sulla base delle dichiarazioni di alcuni imprenditori locali che avevano segnalato l'estromissione con atti intimidatori dal mercato della raccolta di plastica dismessa dalle serre. Proprio in quel mercato, così come si vince dall'inchiesta, i sodali del gruppo mafioso si sono mostrati in grado di impadronirsi del controllo del territorio attraverso l'imposizione della guardiania presso le aziende agricole di Contrada Migniechi, Bulala ed in altre zone Limitrofe. Cosa Nostra Gelese inoltre aveva dato vita ad un fiorente traffico di droga che serviva a sostenere l'associazione, forte anche dell'alleanza, con membri della stigia ragusana. L'attività di indagini ha permesso di ricostruire i nuovi assetti di Cosa Nostra Gelese ed ancora una volta sono stati decapitati vertici mafiosi essendo stato individuato il reggente della famiglia di Gela. Si tratta di Vincenzo Trubia, 44 anni, imprenditore, vecchia conoscenza della polizia, uscito dal carcere un anno addietro. Le manette la scorsa notte sono scattate ai polsi di Nunzio Trubia, 55 anni, Davide Trubia di 33, Rosario Trubia di 25 anni, Luca Trubia, 24, Simone Trubia, 20 anni, Pasquale Andrea Trubia di 33 anni, Lino Pasquale Trubia di 27, Luigi Rizzari di Sommatino di 39 anni, Rosario Caruso, 36, Francesco Graziano Giovane di 32 anni, Ruggero Biundo di 40 anni, Christopher Luca Tasca di 22, Fabio Crisci di 23, Manuele Rolla di 30 anni e Nicola Baldassare, già detenuto, di 32 anni. Arresti domiciliari per Rosario Trubia di 26 anni, Serafino Tuccio di 23, Rosario Davide Alba di 32 e Giuseppe Carnazzo Nisce Mese di 30 anni. Il giolese Rosario Michael Trubia di 23 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Palermo, si trovava a bordo di una nave che da Civitavecchia era diretta a termini imarese. All'appello ne manca uno, attualmente irreperibile, si tratta di un rumeno di 20 anni. Nel corso del blitz della scorsa notte sono state effettuate perquisizioni che hanno permesso di rinvenire e sequestrare 15.000 euro ad uno degli indagati. Rosario Davide Alba, ritenuti dalla polizia i proventi dell'attività di spaccio di droga e dallo stesso, sono stati ritirati tre fucili e due pistole e munizionamento vario, regolarmente detenuti. E sentiamo ai nostri microfoni gli inquirenti al termine della conferenza stampa che si svolta oggi a Caltanissetta. Questa operazione dimostra come sia stato fondamentale l'apporto delle associazioni anti-racket che hanno supportato le persone offese dei fatti estorsivi aggravati dall'articolo 7, che hanno denunciato, che hanno riconosciuto il fatto e che sono riusciti a mantenere questo atteggiamento coerente anche dopo che proprio nel corso delle indagini, dopo le prime dichiarazioni, sono stati nuovamente minacciati, però hanno mantenuto questo atteggiamento coerente di scelta per la legalità. E noi riteniamo che l'apporto dato dalle associazioni anti-racket sul territorio sia stato fondamentale a sostenerli. Quindi ribadiamo l'importanza di fare rete sull'attività estorsiva e quindi l'importanza fondamentale del ruolo di questo tipo di associazioni. Tenete presente che soprattutto nei piccoli centri non sentirsi soli, sentire un sostegno che viene dalle forze dell'ordine e da questo tipo di associazioni è fondamentale per fare il salto di qualità. Questa operazione che fotografa l'ultimo anno e mezzo per quanto riguarda le attività estorsive, l'imposizione nel settore della plastica e della guardiania, ma che fotografa anche estorsioni del 2003, che fotografa attività di smercio, di sostanza stupefacente, è proprio la prova che sul territorio si può fotografare tutto e ricondurre tutto ad unità, il vecchio e il nuovo, grazie anche all'apporto di chi sostiene. Chi sostiene l'attività di legalità non è soltanto la polizia di Stato, i carabinieri, la magistratura, ma anche quella parte sana della società civile che fa associazione. Noi individuiamo proprio la struttura organica tipica di quelle che sono le famiglie mafiosi, perché abbiamo individuato il reggente, abbiamo individuato il cassiere e consigliore anche del capofamiglia naturalmente, piuttosto che poi tutti gli accoliti che vengono mandati sul territorio per poi operare praticamente. Ma vediamo che poi la spartizione dei proventi, la maggior parte, naturalmente viene assicurato al reggente, al cassiere, piuttosto che al fratello, sempre di Dubbia Vincenzo. Però cosa troviamo poi? Anche un calcolo di quelli che sono gli stipendi a tutti i sodali. Tutti vengono lautamente pagati con stipendi che vanno dalle 700 euro alle 1300 euro mensili. Voglio dare molto merito al nostro personale che, coordinato sapendamente dalla DTA, è riuscito nel giro di un anno a liberare gli imprenditori da questo fardello che sarebbe divenuto insostenibile perché, ripeto, dovevano pagare sia la guardia abusiva, ma soprattutto erano obbligati a consegnare la plastica a chi dicevano loro, tagliando fuori gli onesti lavoratori del settore da tanti anni impegnati nel territorio gelese. Domani, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, presso l'Istituto Comprensivo Gela e Butera, scuola secondaria di primo grado Enrico Mattei di Gela, nel plesso Cantina Sociale di Via Picasso, si darà una giornata di incontro e riflessione dal titolo Donna e Vita. La manifestazione è organizzata e proposta assieme all'Udi di Gela, l'Unione Donne in Italia, la cui responsabile è l'avvocato Giovanna Cassarà, già assessore del Comune, ed avrà inizio alle 9.30 presso la palestra del plesso Cantina Sociale con il saluto del dirigente scolastico, la professoressa Agata Guelli. Seguirà una riflessione dell'avvocato Cassarà ed un breve saluto del funzionario di polizia, Laura Romano. Uno gruppo di alunni ed alunni sarà impegnato con la pittrice Rita Castellano in una estemporanea sul tema della giornata. Quindi sarà presentata una mostra di artigianato realizzata da donne dell'Udi e saranno esposte delle foto proposte da Mimma Guielmo e Vincenzo Lauretta. La manifestazione si concluderà con un monologo sulle emozioni degli adolescenti scritto ed interpretato da Monica Bevelacqua con degli intermezzi musicali a tema curati dal professore Ottavio Duichetta assieme ai ragazzi e alle ragazze del laboratorio di musica. E domani alle 9.30 nei locali della liceo delle scienze umane di via Eritrea a Gela è prevista la presentazione della libro Federica, la ragazza del lago di Massimo Mangiapelo. L'organizzazione è affidata alla FIDAPA, previsto l'intervento tra gli altri di Lara Secaccini, sostituto procuratore presso il Tribunale di Gela. E sempre domani sarà presentato, in occasione della giornata mondiale contro la violenza alle donne, il libro di Emma Laspina dal titolo Come fossi una bambola, appuntamento previsto per le 17.30 nella sala consigliare del Comune. L'iniziativa è della Soroptimist, dell'Innerwill, della libreria Mondadori, in collaborazione con il Comune. La nuova frontiera dell'estetica si chiama Diod System, di che cosa si tratta? Si tratta di una parecchiatura di ultima generazione, il campo dell'epilazione. È un metodo innovativo, è indolore ed è molto più veloce rispetto a quanto non lo sia stato fino adesso, la luce pulsata, con cui noi lavoriamo da quasi 11 anni. Quindi abbiamo voluto presentare qua Gela in queste due giornate, oggi 24 e domani 25, questa nuova parecchiatura e oggi e domani siamo qui per farla provare, dare una consulenza a tutti coloro ai quali fossero interessati. Quante sedute occorrono per ottenere dei risultati? Chiaramente dipende dal tipo di pelo, si fa una consulenza infatti per vedere da persona a persona, da zona a zona, quante sono le sedute, però mediamente le sedute necessarie sono inferiori rispetto a quanto non sia stato necessario con la luce pulsata. E' quello che è importante comunque che è un metodo assolutamente innovativo, va a risolvere una serie di problematiche, ad esempio chi soffre di follicoliti, che ha problemi comunque di allergia o comunque di reazioni con la Gela, è un metodo assolutamente rivoluzionario ed è sicuramente indicato anche per le persone più giovani, quelle che iniziano anche a trattare l'epilazione nel giusto modo. E' corretto dire che se si pensa ad un trattamento nel corso dell'inverno, per l'estate prossima, certamente l'epilazione sarà un pensiero in meno? Assolutamente sì, questo è il periodo giusto per iniziare con l'epilazione, il periodo ideale è l'inverno perché abbiamo il tempo per trattare in tutte le zone, il pelo è assolutamente alternativo agli altri metodi perché è molto 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 migliore rispetto agli altri, chi lo prova assolutamente lo potrà constatare. Ci sono dei soggetti che non possono fare questo trattamento? Allora a dire il vero in questo caso specifico la seradio dovrà affrontare anche delle situazioni con cui non si poteva intervenire con la luce pulsata, ad esempio i fototipi più scuri, in cui avevamo qualche difficoltà perché i parametri dovevano essere abbassati. Invece con la seradio dove interveniamo anche su questi soggetti. Chiaramente tutti i soggetti, uomini e donne, che volessero provare questo trattamento possono recarsi da lì, praticamente da oggi, è attivo questo nuovo trattamento assolutamente rivoluzionario e che è consigliato a tutti. Sì, da oggi in poi noi saremo qui a disposizione per fornire una consulenza gratuita, quindi facciamo un check-up ma anche una prova a chi volesse. Ed eccoci, seconda parte del telegiornale, la dignità del Reo e del suo inserimento è il titolo del convegno che si svolge da Gela venerdì 27 novembre dalle 15.30 presso il Palazzo di Giustizia e sabato 28 novembre dalle 9.30 presso l'Aula Magna del Liceo Classico Eschilo. Gli incontri sono stati organizzati dalla Lions Club di Gela presieduto dall'Avvocato Antonio Gagliano in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Gela e saranno spunti di riflessione sul volume dell'Avvocato Giovanni Maria Flick Elogio della Dignità. Tanti gli ospiti che interverranno nelle due giornate i cui lavori saranno presieduti venerdì dal Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Salvatore Cardinale e sabato da Don Giuseppe Costa, Direttore della Libreria Editrice Vaticana. Il grano duro dei campi geloi ed il pane di Gela è il tema dell'incontro promosso dall'Associazione Culturale e gli amici di Antifemo ed Entimo in collaborazione col Comune che si darà giovedì 26 novembre alle 17.30 nella Pinacoteca del Palazzo di Città. Prevista la partecipazione tra gli altri di Pippo Leonardi, primario del reparto di gastroenterologia dell'ospedale Vittorio Emanuele e di Paolo Guarnaccia del Dipartimento Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente dell'Università di Catania. Grazie a un'associazione di Gela, agli amici di Antifemo ed Entimo si sta riprendendo una vecchia tradizione per quanto riguarda la produzione di un grano antico tipico delle nostre zone. Un grano dalle proprietà organolettiche eccezionale, un grano che può dare origine a delle farine, che posso dare la risposta anche a molte persone che sono intolleranti al glutine. Questo è un processo importante perché bisogna dare i giusti riconoscimenti nelle norme di legge ai prodotti territoriali, ai prodotti biologici. In queste culture non sono previste l'uso di antichittogramici. Questo nell'ottica di uno sviluppo compatibile e sostenibile con il territorio, nell'ottica appunto di agevolare, favorire, promuovere l'utilizzo dei prodotti locali, quindi nell'ottica del chilometro zero e del prodotto biologico. Il grano duro dei campi geloi, questo è il titolo del progetto che l'Associazione Culturale Gli Amici di Antifemo ed Entimo ha iniziato sin dall'anno scorso con la semina della varietà russello, che è una delle tipologie dei grani antichi che nella nostra piana da, oserei dire, da millenni, perché ai tempi dei greci il grano veniva prodotto e di questo venne una testimonianza presso il nostro museo perché sono stati ritrovati dei chicchi di grano antichissimo che si trovano presso il nostro museo, proprio a testimoniare. Chiaramente non è quella la varietà. Questa è una varietà che veniva seminata fino a una ventina di anni fa. Ridefiniamo la protezione in banca, piano di protezione per professionisti e piccole e medie imprese e quali rischi nella vita quotidiana. È il tema di un incontro che si trarà oggi alle 17.30 nella filiale di Gela Agenzia 2 del Monte dei Paschi di Siena in via Venezia, angolo via Butera. Stilato il programma per la festa dell'Immacolata Concezione è prevista per martedì 8 dicembre prossimo. Si comincia sabato 28 novembre alle 16.30 con lo scampanio festoso e lo sparo di 12 colpi a cannone annunziato alla città. Alle 18 l'eucarestia presieduta da Don Raimondo Giammusso nel 25esimo anno di sacerdozio e alle 20.30 veglia di avvento e solenne lucernaio animata dal Movimento Giovanile San Francesco. Prenderà il via il 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro, mentre il singolo biglietto costerà 15 euro. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18.30 alle 20.30. Arriva il grande jazz a Gela, appuntamento al Teatro Comunale Eschilo. Venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone. Giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero, venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20.00 per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0933 911 892 oppure 345 5880 580. La pagina del cinema è Ricomincio da 3 di Massimo Troisi. Il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella Gela sono due gli orari 18.30 e 21.30 e continua al Teatro Comunale Eschilo la stagione teatrale. Sabato 28 novembre alle 17.15 e alle 21.15 Federico Buffa porterà in scena le Olimpiadi del 1936. Il botteghino, lo ricordiamo, è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20.00. Con la notizia dedicata al cinema e al teatro noi chiudiamo l'informazione di oggi. Grazie per averci seguito. Vi ricordiamo anche una volta che notizie e servizi sono consultabili attraverso il nostro portale tg10.it. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.